Orari di ingresso ed uscita differenziati per le scuole della Valle dell'Irno e dell'Agro Nocedino Sarnese. Due fasce orari e ingresso alle ore 8 per le prime classi, seconde e terze, mentre la campanella suonerà alle 9 per le classi quarte e quinte e di conseguenza differenziazione nelle uscite. Fatta eccezione per le scuole di Baronissi e Mercato San Severino che invece tornano all'orario unico. Stesso orario di ingresso ed uscita nelle restanti zone della provincia di Salerno. E quanto prevede il piano oggetto ieri pomeriggio del tavolo di coordinamento scuole e trasporti convocato dal prefetto di Salerno Francesco Russo. Un confronto in videocall per valutare congiuntamente l'opportunità di confermare o meno i contenuti del documento operativo redatto già lo scorso anno. Presenti all'incontro, oltre agli abituali componenti, il presidente della IV Commissione regionale del trasporti, il vicepresidente della provincia, il sindaco di Baronissi, rappresentanza di Anci Campania, il vice sindaco della città di Salerno, l'ufficio scolastico provinciale, le aziende di trasporto, anche i sindaci dei comuni interessati dalla modalità però da ridifferenziati. Nel corso della riunione sono stati inoltre approfonditi gli esiti degli incontri che i sindaci hanno tenuto in settimana con i dirigenti scolastici. Dai tavoli locali, pur essendo stata riscritta una situazione abbastanza eterogenea, è emersa in linea generale l'indicazione di confermare i contenuti del documento operativo anche per il prossimo anno scolastico, ciò soprattutto tenendo conto del ritorno alla didattica in presenza al 100%, con un aumento dei flussi di studenti rispetto allo scorso anno. Orario differenziato dunque per la Valle dell'Irno e l'Agronocerino Sarnese, ad eccezione dei comuni di Baronissi e Mercato San Severino, per i quali, in considerazione delle esigenze rappresentate dai rispettivi sindaci che non hanno evidenziato particolari criticità sotto il profilo della viabilità e dei volumi di traffico, e dai dirigenti scolastici si è deciso di mantenere un orario unico di ingresso e di uscita dalle scuole, così come nel resto della provincia di Salerno. La Regione Campania, analogamente allo scorso anno, assicurerà i servizi aggiuntivi necessari per far fronte alle esigenze di mobilità degli studenti della provincia. Il tavolo di coordinamento Scuola Trasporti monitorerà l'evoluzione della situazione e sarà riconvocato sulla base delle richieste che perverranno di volta in volta.